Pino Ciotatarella sosteneva che in Italia i moderati sono sempre stati maggioranza, o meglio il centrodestra dal 48 dalle prime elezioni politiche italiane ad oggi sono sempre stati maggioranza nel paese e lui per questo coniò prima la svolta della destra democratica italiana trasformando il MSI in alleanza nazionale, quindi costruendo una destra non più di protesta e fino a se stessa ma a destra di protesta e di governo, poi inventandosi il centrodestra, il secondo passaggio e poi andando oltre il polo per recuperare tutti quei moderati che erano al confine tra centrodestra e centrosinistra per costruire come diceva la casa degli italiani al 65% non di sinistra, questa è una sua grande convinzione e un suo grande pallino, quello di sostenere che in Italia viene un 65% di elettori non di sinistra, che è valido anche oggi, lo vediamo nei sondaggi, nei flussi elettorali. Il paese ha una componente prevalentemente moderata di centrodestra e più in uscita a Trella, anche per questo viene ricordato a vent'anni di istanza come il padre nobile della destra italiana, l'artefice, l'inventore del centrodestra italiano. Lui ha anticipato ogni sua iniziativa politica dalla fondazione di una rivista, per esempio, quando decide la svolta di allianza nazionale e tenta di far uscire il MSI dal ghetto, si inventa la Repubblica Presidenziale, che è una rivista, ma perché fa fare al MSI la battaglia per il presidenzialismo. Quando decide che l'alleanza nazionale non era più sufficiente e bisognava costruire una coalizione di centrodestra, si inventa una rivista, il centrodestra. Ogni volta che doveva intraprendere una battaglia come l'ultima, quella di oltre il polo, si inventava un giornale. Visto che qui siamo in Campania, lui rilevò il famoso Roma di Achille Lauro, quindi con una redazione a Napoli o Puglia ad oggi in Puglia, lui associava ogni battaglia a un'iniziativa giornalistica, perché sosteneva che non vi è politica senza cultura. Il messaggio che lascia, l'eredità che lascia è che chi vuole fare politica deve studiare, deve impegnarsi, deve avere una cultura. Il politico non è colui che si improvvisa, è colui che prima studia, poi fa delle adeguate riflessioni e poi si mette al servizio da classe dirigente per il Paese. Grazie per la visione!